Un nuovo binomio italiano per la Dakar 2018, Jacopo Cerutti e la Pizza P1. Il talentuoso pilota 28enne correrà il più famoso rally ride del mondo, giunto alla quarantesima edizione, affiancato dal brand piacentino specializzato nella produzione di pizza e focaccia fresca in atmosfera modificata. L'avventura è stata presentata questa mattina nel quartier generale della Pizza P1. Il primo via della gara è previsto da Lima, in Peru, il 6 gennaio 2018. La Dakar, composta da 14 tappe, farà poi rotta verso la Bolivia per proseguire in Argentina e terminare a Cordoba. C'è la tua terza partecipazione a questa Parigi Dakar, come ti senti? Beh, diciamo che sono un po' preoccupato ma sono anche molto felice, molto carico per questa nuova avventura. Preoccupato, tra virgolette, nel senso che ne ho fatte già due. Una finita a dodicesimo assoluto e una purtroppo con un ritiro dopo il terzo giorno per un piccolissimo infortunio. E quindi so cosa mi aspetta, in quel senso preoccupato, ma al tempo stesso sapendo cosa mi aspetta sono anche molto carico, motivato, perché è un'esperienza grandiosa e non vedo l'ora di arrivare giù. Qual è l'obiettivo di questa gara? L'obiettivo primario è sempre finirla di tutti i piloti, perché se non si finisce non si può neanche vincerla. Quindi è chiaro che l'obiettivo primario è quello, un pilota su due ci riesce di solito, perché è la gara più dura al mondo. Io proverò a finirla, so che ho un buon passo, quindi potrei cercare di stare nei primi venti e stare vicino alla Top Ten, come ho fatto già la prima volta, sarebbe un bel risultato per me. Originario di Como, Jacopo è un assiduo frequentatore delle strade della nostra provincia ed è proprio così che è nata la partnership con l'azienda di Gariga. Io bazzico tanto nelle zone tipo Bobbio, quindi montagne, colline, mi piace molto andare lì per soprattutto godermi la natura. Insomma sono dei posti stupendi, infatti tramite amici in comune siamo arrivati in contatto con tutti i ragazzi di La Pizza più uno e quindi è nata un po' da quello tutta la nostra avventura insieme. All'incirca sono quelle le distanze.